L'incontro è stato positivo, andavamo con i sindaci delle città metropolitane, il Presidente del Consiglio ha ritenuto ragionivoli le nostre proposte, immediatamente costituito un tavolo, per la città di Napoli significa il tema del dissesto, del turnover, il tema dell'avanzo libero e soprattutto c'è la solidarietà di tutti i sindaci per queste battaglie, quindi significa avere più risorse per la città metropolitana, significa avere norme che interrompano l'ingiustizia per le città come Napoli che sono andate in predissesso e sono ingabbiate ormai da anni, significa poter almeno in alcuni comparti sbloccare il blocco delle assunzioni e soprattutto abbiamo sottolineato che il governo deve dare un segnale politico, questo è il tema, è molto politico, perché si sta per scrivere la manovra economico-finanziaria e il governo deve scegliere, tanto è vero che il Presidente ha detto che sono scelte politiche e istituzionali che dovremmo fare, noi abbiamo posto tutti uniti i sindaci, tutti gli schieramenti politici che dare risposta agli enti locali non significa accontentare il sindaco di turno, significa poter garantire trasporti efficienti, significa poter garantire servizi efficienti, significa rendere più forte l'Italia e più coesa, quindi l'incontro lungo, franco, chiaro, proficuo, adesso attendiamo i risultati e poi diremo ovviamente le sue, ma anche il clima parlamentare sembra buono perché anche altre forze politiche presenti in Parlamento si sono espresse in questi giorni nel senso di voler dare un segnale ai territori e agli enti locali.